Guardate questo! Bastardo! Non ho preso il gioco. Aspettate qua. E niente, questo lo metto qua. Ok. Bravi, tutti a toccare. Aspetta, appena questo faccio la scoglie... Gioca, ti stai muovendo. Mi sono rotto le palle, non ci stiamo più niente. Fammi giocare. Dai dai, team Alliali. Oh Marco! L'abbiamo vinta questa. Quest'oggi ci sarà... Merda, niente, non giocare. Già più tu che... Posto! 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 Marco! 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 Moro, fammi... Moro! Marco! Esprit, fammi sognare. Come? Tocca di nuovo te Esprit. Scusami, quanto velocemente fai i turni, vuoi? Storti bastanti. No, ha caldinato il turno. Già che adesso inizia a rompere le balle lui, eh. No, per esempio... Questo tipo... Questo tipo... Lo faccio per te Marco. Tocca di nuovo te Marco. Lo faccio per noi. Lo faccio per te, ma che sono bravissimo. Dai! Ok. Sono iniziato una persona. Va bene. Princequick, 5 mesi, grazie mille. Ah, lui... Franessequick. 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 Ah, finalmente. Metto un 9. Ecco, fatto. Manchi, contento. L'ho fatto. Ora Hall of Fame. Cosi 04, grazie mille per la salvia. Gentilissimo. Morelli, stai tranquillo. Grazie, grazie. Esprit, mi raccomando, tocca a te. Ti rompo il culo. Tocca a te. E poi... Tocca a me, suore. Tranquillo. Non ci si vede spesso. È un 2v2, quindi dobbiamo collaborare. Inizita, ciao te! Marameriii! A questa è Mariam. Sì. Ho sistemato. Adesso è bellissimo tutto quanto. Eh... Come voi. Eh... Ma che cacchia. Bastardo. Scegli il calore giusto. Scegli il calore giusto. Scegli il calore giusto. Davissimo, Morelli. Eh, ma tanto devi... Ti sfido. No, no. Questa è chiaramente nostra. Questa qui, eh. Eh, ma io non c'è neanche bisogno di dire. Perché io... Moro, mettiamo il pirata. Eh, bello il pirata. Bello, bello. Marco, scudo in bones, dai. 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 Vai. Certo. Vai, Marco. Tomari tutti. Vai, Marco. Tomari provole tutti. Come provole? Scusa. Vai, Marco. Questi sono proprio dei culoni. Eh... Perché vai, Marco, così a caso. Vai, Marco. Vai, Marco. Vai, Marco. Quel chain. Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei un imbecille sei, allora. Perché dobbiamo attivarlo o no, il potere? Ma vaffanculo. Matteo, 13 mesi, grazie Matteo. Dopo il weekend. Non devi andare contro il potere, sennò perdiamo. Non gioca Marco così, smetti di far casino. Guarda, faccio saltare di nuovo, ora. Ma Frestan, grazie. Puoi giocare. Ma è stronzo. Ha rotto le palle di Aledo. Vabbè, meglio così che lo date. Che non la metto. Vabbè, veramente. Eh, infatti. Eh, meglio così. Meglio così. No, hai ragione. Eh, aspetta, noi dobbiamo collaborare. Tu qua, Gioca contro di me. Mi devi conto le cose e ne collaborare questo. Perché vinca uno dei due. Eh, uno dei due. E vince in squadra qua. Se no, non si vince. Ma vince. È già partito. Capito che non vinceremo mai. Se in questo vincete voi. Pirata di nuovo. Stai zitto, Korn. Mangiali. È vero. Stai zitto. Il pirata del change. Bravo. Oh, il change. Oh, c'è il nuovo. Questo era il simbolo. Oh, di nuovo ha citato. Vedi, devi avviarlo il potere. Poi viene tutto da sè. Stai zitto. Viene tutto da sedie. Ma vaffanculo. Tutto da sedie. Secondo me ha un verde. Io chiaramente adesso lo sfido perché devo vedere cosa ha. Il cambio colore rosso. Ma sei carte. Il cambio colore rosso, tra l'altro. Il cambio giro rosso. È difficile. Guarda, Marco. Change. Bravo. Ma quello è il gioco. Scusa. Ha scritto. Che giocano verso 2 con la tastiera. Ma siete impazziti completamente lì? Ha rimesso il rosso. Vai. Ma noi. Chi siamo noi? Tu chi siamo noi? Marco. Io chi sono? Io sono Mario. Diva bene. Adesso vediamo cosa fa. Niente. Chiaramente ha dato da Marco. Hanno avuto culo. Hanno avuto culo. Hanno avuto culo. Hanno avuto culo. Hanno avuto culo, Moro. Perché il potere si era attivato. Questa è tattica. Questa è tattica. Questa è tattica. È tattica. Io voglio giocare con Espri. Comunque. Va bene. Io non voglio giocare con Marco. Scusa. E poi il team maiali si rompe. Si rompe. Volete rompere il team maiali? Noi continueremo a perdere. Perché Moro è un deficiente. Sei zitto. Il deficiente non si affida al potere. Ammettilo. È un povero mentecatto. Nonché ritardatario agli appuntamenti. Tra l'altro è vero. Oggi vedete le carte non del team maiali. Vedete. Ma mi hai portato tu lo so stronzo. Guarda te. Allora. Poi mi dice che non devo credere nel potere. Fate uno più una allora. E allora. Fate uno più una allora. Vedi change. Come un fallo. Change peggiore del mondo. In fatto. Morelli. Colpa di Marco questo. Guarda Marco sei proprio un imbecille di merda. Certo. Ma vedrai i frutti di questo beneficio. I frutti te li metto dentro il sedere Marco. È vero è vero. Tanto c'è spazio. Come c'è spazio? Eh sì. Certo. Spazioso spazioso. Eh niente Marco. Siccome sei simpatico di gioca. Dai. Grazie. Sei molto gentile. Perfetto. 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 Troia. Vai Marco. Perché? Ma che cosa? Ah già non potevo farlo senza più due. Eh niente io non posso. Poteva pescare. Non potevi farlo senza più due. Vabbè va bene finché non peschi tu e non io. E' l'uno. E' l'uno. Ha messo l'asso ha messo. Ostia. Che bel change. Non voglio giocare a briscola a morelli perché voglio fare le cose belle. Non voglio giocare a briscola. Non voglio giocare a briscola a briscola. Io continuo su questa fedelità. Ma che continuo su questa fedelità? Ma si. Ah bene bene l'otto. Eh vabbè però. A me piace molto. Guarda ce l'ho uguale. Guarda io ti metto il set. Guarda io piuttosto pesco. Pesco. Ah. Che palle. Eh vabbè. Change. Change. Perché sempre il change di merda fai. Vabbè tieni. Ma ora non ce la facevi? Che cosa c'è? No non ho cambiato. Eh beh non importa per me. Poi in te il sito che la fa vedere un po' meglio. Ma te cosa ti frega? Pesca. Non usiamo più hangout. Pesco si pesco. Eh si pesco anch'io pesco. Pensa a te. Allora che bello. Cos'è? Che coloro è? Eh porca paletta. Vabbè. Non ti preoccupare. Eh metto questo colore. Vedi che fatto bene l'Header da fare questa cosa. Basta perché ora il cialo. Eh si sfidami pure l'Header. Bravo. Bravo difficile. Ok due rosse e due verdi. Eh si. Ma sei quattro e cinque sei. Vabbè a tutte le carte del gioco insomma. Se no c'è due verdi non lo provo. Ma perché sempre le robe sbagliate li metti te. Marco non giocare stavolta per favore. Io non faccio niente infatti. Peschi di pesca. Change. Ah che bello questo change. Buono tieni il giallo così qua lo fai. Sì sì change. Ma dai ma perché ti piace il giallo te. È deficiente. Change. Ma change. Ah grazie. Va bene. A me cosa mi frega tanto pesco e ho il potere del change. Ah giusto giusto. Change infatti vedi. Mi rimetto giallo. Mi metto giallo. Ma perché c'è il giallo è deficiente. Ma che moro ha il giallo. Ma c'è il giallo giallo. Tu fammi fare le mie tanti che vuoi. E io posso fare come si. Ecco lo che devi. Vai ma. Fammi pescare. No non c'è niente che peccato. Mi dispiace molto cacchio. E devi farlo. E devi farlo. Come faccio non i colori che peccato. E da te rifatto. Come faccio. E speriamo. Sì speriamo che mi incule a me. Guarda bastardo. E abbiamo perso perché ho usato la nera. E certo. Scusa ma come funziona la sfida? Non l'ho vinto bene. La sfida avevo il giallo quindi non potevo usare l'uomo. Perché non lo puoi buttare. L'importante è quello. Due fari. Due fari. Due fari. Due fari. Ragazzi sono a Zeo. Io sono a Zeo. Usando come si chiama il sito. Aspetta. 2-0. Ho fatto abbandonare. Usatemi. Hanno il culo così. Lezzar rinvita tutti. Ma conta bene. Ma si ora. Rinvita tutti. Lezzar. Perché? Ma perché sei uscito? Ma perché sei uscito? E che ne so. Io ho fatto abbandonare. Si vede. Ho cliccato veloce. Ma questo è un coglione? Sempre. Ma cos'era quella? Questo è un coglione? Sempre. Ma ha legato un pochino a Morello. Ma adesso Marco ha toccato. Fottare il simicofono di nuovo per capire Marco adesso. Veramente questo imbecille di merda. Questo coglione bastardo. Vabbè proviamo i tappi. Io dopo domani vi vedo vi do un pugno in faccia a tutti voi. Sì. Adesso vi prendo un rimaciccione. Per un pochino. E quello è il casino tuo Morello. Mi inviti per favore. Sembra perdere tempo. Sembra perdere tempo. Sembra perdere tempo. E' il mio futuro. E' la Ubisoft che fa cagare. E' questo. E' questo. E' il Far Cry. E' il Baxter. E' il Nat. Ma non ci siamo scambiati adesso. E' strada. No, vabbè ci siamo giusti. Guarda. Vedi. Siamo tutti a posto. Perfetto. Siamo sempre giusti. Siamo sempre qua. Ok. 2 a 0. Vai. Vai Marco. Vai Marco. Ho sbagliato. Vabbè ormai l'ho messa. Interessante questa carta. Secondo me non ce l'ha però. Lo sfido lo stesso. Ma che non ce l'ha? Ho detto ho sbagliato anche. Ah vedi però. Non ho neanche. E' niente. Ovviamente quello che vuoi. E' la tua scelta. Che figura di merda. Il merda è peggiore. Capito mi scivolano le dita. Eh lo so. Questo dopo. Ho fatto tutto il giornalino Kuni. Non lo sto ancora finendo. Sono stordito. 18 ore di gaming. Non ho ancora finito. Guarda Marco sei proprio un pezzo di merda. No di no Kuni è 100 ore di farming. A parte il fatto che è solo una cosa di guadagnato essere un pezzettino di cacca al giorno d'oggi. Perché ci coltivi le cose. E' vero. Non è vero. L'agricoltura ormai è spacciata Marco. Oh tranquillo eh. Inca siamo in Fallout 97. Come? Guarda è 0. Era 73. Come le donne di Esprit. Beh? Vedete come è vero. Attualmente c'hai donne. Tantissime Marco. Anche la tua. Ma no. E' mezz'ora che sistemavo la webcam era un errore di uno. Ho sbagliato. Non mi ha sentito comunque Marco. Ma non l'ho sentito. Hai detto che sei uno stronzo. Esatto. E allora change. E allora non change io. No. Quattro come i buchi del mio padre. Ma sei quei. E siamo sbagliati. Ho una. Ne ha giocassi una. Avevo sbagliato. Uno come cinque. Infatti vedi? Hai capito. Ramonza è la donna di Esprit Moro. Stai attento eh. Ma anche la tua Marco. Questo qua zitto zitto. Si fotte le donne. Ramonza. Non ti azzardare. E vai in cucina. Andiamo. Hai il sugo. Queste donne. E sudore. C'è un sugo. C'è una ciazza di sudore qui. Che guarda. No. Sono proprio fresh. Per due volte la massa di tutto che Marco. Guarda. Mi metto così. Mi metto tanto che il cazzo non gioco. È tanto l'ultima volta. Non è che voi. Non ce lo aspettavano questo. Ah. Questo era con colpo basso. Ah. Tanto gli Elzar mi sfida perché è stupido. Cazzo. Sono stupido. Tutte blu proprio. Cioè. Tutte quante blu. Sei un imbecillo. E vabbè. Era una tattica tecnico tattica. Ma nella stessa partita. Come si fa ad essere stronti due volte. Scusi. Ma fammi giocare. Cosa ne sai delle mie tattiche. Era un piano malefico. Me l'hai distrutto. Era un piano malefico. Vai a fare la cacca. La fortuna. Beh. Vai tranquillo direttamente. Moro. Adesso se non risolve la situazione. Sei un tamarò delle giostere. Comunque. Sto changeando 47 volte qua. Capito. Hai fatto due cazzate. Pallo. Pallo. Ma cosa fai change? Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Perché sei stupido tu. Per il change di Marco ho vinto. Per il change di Marco ho vinto. Aveva il quattro. Non c'eravamo il quattro. Non c'eravamo il quattro. Voi sei. Guarda fortuna che siamo in vantaggio. Guarda. Eh. Infatti. Infatti stai perdendo gli orecchi. E' meglio. Perché sei disconnesso esco. E' uscito da solo. E' uscito da solo. E' uscito da solo. E allora andiamo a mangiare me stesso. Ovvero le feci. E' ogni partita doveva uscire. Ma io non ho cliccato niente. Non so se l'avete visto. Non ha cliccato niente. Ha cliccato? Sono come Marco forse. Sono come Marco forse. Sono come Marco Street Tower? Ho cliccato? Cambio mondo e faccio... E chi cazzo è Ivan Attolino? Ma vaffanculo. Digni da questo Ivan. Eh mi aggiungono le amicizie. Allora Moro. Non vi voglio. Era troppo. Non me ne frega niente. Metta occhio al microfono di nuovo. Eh. Invece l'ho già sistemato. Io devo farlo duro. Adesso si. Adesso si. Ah ah. Questa volta Moro gioca a modo eh. Eh infatti. Cosa è. Nelzo non possiamo prendere controllo di nuovo. No infatti stiamo perdendo troppo. Non capire. Devevo impegnarsi di più. Questo 27 a 0 qua. Si fa sentire. Che carte sono? Scusate. Ah crede. Anche un pad che sono. Vabbè iniziamo con lei dai. Sono bene ste carte. Mi piacciono. È la canzone di Harry Potter. Sono andato a sbattare. Ma cosa? Chatta. Ho già caccato appena sono. Chatta. Perché siete belli? Perché domani dopo domani a due esami ho bisogno di una termo benedizione. Ma vedrai. 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 Tutti li passerai. Io sto sudando come un porco. E voglio. Io mi dispoglio fra un po'. Come? Non frega niente che finiscono il mio canale. E sono caldo. Sono 8. Ma Marco smetti di guadagnare i soldi e vai vivere sotto una strada. Capito? Ma sono calore. Meglio non usarlo. Sudor. Sudor? Marco perché mi fai pescare? Ah Marco perché lo fai pescare? Fatti. Fatti guarda. Ah perché mi fai pescare anche me? Ah funziona dalla solid vedi? Ah. Sei proprio un ballordo. E vabbè. Datemi in mazzo direttamente a sto punto. C'è cosa devo fare qua. Potrei giocare gentilmente. Eh che non lo sapevo. Guarda. Scusa. Che è Inge? Ma che c'è Inge a fare? Va a fare il culo. Hai detto eh. Cosa ne c'è delle tattiche? C'è appena un novellino. Sono un po' fanno. Dai. Dai ancora. Il problema è che io sto facendo una cagata. Non è che posso essere sempre Nichiminali. Non lo so. Io sto facendo una vera cagata. Aspetta. Eh vabbè. Il tre si spiazza. Perché il tre è come il numero dei... Dei falli. Pelli del culo. Devo usarla adesso per forza perché non ha senso. Ma questo è un pirla. Eh ma non ha senso che finisco le carte se tanto poi le rischia. Adesso si gioca veramente bene eh. A me va benissimo comunque. Guarda. A me va benissimo. Marco Madia. Ostia. Io sfiderei eh però. Sì ma tanto lo sfidiamo. No anzi. Lo sfidiamo. Ah visto come è andata la partita. E lo sfido. No dovevi ribattere. No. Non aveva nessun giallo. Niente vabbè. Mi piace eh Esprit. Mi piace che ascolti Iezar. E vabbè. Io sono fortissimo Iezar. Vinco con tutte le carte del gioco. Vedai adesso come funziona eh. Allora questa volta ti fermo Esprit. Ma perché mi fermi. Ho poche carte. Ho poche carte. Sei pericoloso. Ho poche carte. Sei pericoloso. È vero. È vero. Puoi fermarlo di nuovo? Poi gentilmente puoi smettere il canale. Metti quello che vuoi. C'ho tutto. Ma sì che mi prego. Sì. Tanto che non ha le cose sono io. Grazie che mi sono delle carte. Se ne do un po' di nuovo. Ma sì il rosso ce l'abbiamo tutti. Scusa lui non ha il rosso. Cosa ne sai te? Ma hai capito? Ma ce ne ha sette. Ma ce ne ha sette. Ma anche io ve l'ho detto a niente. Hai diventato perso. E tataratata. E ho capito. Intanto ho preso sui dei tuoi amici. Io ho preso. Io ho preso. Io ho preso. Io ho preso. Dovete vincere insieme. E io non devo vincere insieme. Posso vincere anche contro. Vabbè. Cosa vuol dire? Morelli. E cambio perché sei stupido? Perché sei stupido? Perché sei stupido? Marco. Dammi retta a me. Dammi retta. Oggi è veramente un piccolo deficiente quello lì. Marco. Dammi retta. Avevamo già vinto. Avevamo già vinto. Marco. Dammi retta. Guarda quante carte sto pescando. Marco. Ma questo qui non ha capito come funziona. No. Mi fai niente. Morelli. Poi se vuoi. Mi fai niente. Io l'ho già perso. Guardate. Usano solo la stessa tattica per vincere. È incredibile. Guarda. Siete veramente dei... Espi. Però. Poro. Abbiamo perso. È un sacrificio per la squadra questo. No. Perché c'è la testa a forma di casta. È un sacrificio per la squadra questo. Sei un calippo a forma fallica sei. Espi. Sei vincito sacrificato. Abbiamo vinto. Eh sì. Poro. Se non fossimo in pareggio. Sai che figlio che ti darei. Guarda. Ah. Siamo risolto in pareggio. Non siete più vantaggio. Eh no. Siamo in pareggio. Quindi questo vince tutto. Ah. Ti tocca quindi. Allora. Gioca bene. Sbirulino. Cos'è quel cappellino poi? Accentua solo la tua ritardataggine. Se la vuoi. Gioca bene. Gioca. Guarda. Fortuna che ho il fotoschema. Eh vabbè. La faccio così io. E a me che mi frega. Tanto non volevo tirare. Lo lo sapevo. Ah no. Lo lo tirano. Lo lo tirano. Eh infatti perché non le ero. Non le ero. Eh Morelli però. Sempre erano tutti i coglioni. Quali striker. Che è? Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Ho una selezione per il corso di doppiaggio. Vabbè auguri allora. Dai. Io voglio sfogliarmi. Nudo. Posso sfogliarmi. Non puoi in live. Lord di. Puoi solo i pantaloni che non si vedono. Fai come dicevo la Ramonza prima. Copriti i cape. Tocca a me. I capezzoli. Copriti. I capezzoli sono caldi. Stai così stai. Marco mi change? Ah scusa. Questa qui tra l'altro è una cheat. Grazie grazie. Quindi chi la capisce vince con un soldo. Posso fare così o posso. Puoi buttare? Sì. Infatti. Ehm. 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 Io ho veramente tanto caldo. Lascio il rosso. E apri la finestra. C'è la finestra chiusa per fare la cappa. Tutti gli spiagli. Ehm. 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 Non ho visto. Sfido. Tanto più otto. Ah. Stronzo. Non me ne fega niente. 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 Ti faccio perdere la partita di Morelli. Ti rendi più di carte finchè lo muori. Ma ti cagolo la testa altro che. Marco tocca a te. Vai Marco. Vai Marco. Sto sistemando la sede sono un po' duro però. Aspetta. Aspetta un attimo. Vai Marco. Vai Moro. Vai Moro. Sei zitto Corno non capisci un cazzo tu. E' vero. Ehi. 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 Questo non sei. Allora. Questa cosa faceva. Nessuno ha indovinato la cheat. Questa qui. Questa è un 7. DARKMARK. Ciao DARKMARK. Ciao. Quindi cosa fai Morelli. Change. 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 Tudori. Che voglio unare. Che inchiulaggio. Che devo fare. Sempre la vita da bordo. Marco scarso. Lo sai bene. Bruno. Guardagli la carta a Marco. Cosa fai Marco. Cos'è questa roba. Mi guarda la carta. L'uno giallo. L'uno giallo. Adesso è. Adesso esprimenterà il più 4. Che sarà comunque una merda. Quindi. Bla bla bla. E vincono sempre con la stessa vigliaccata. Guarda. Io ho conto le carte. Non so quant'è avete in mano. Non è vero. Marco. Diciamo lo stesso. Eh sì. Diciamo lo stesso. Eh niente. Questo pareggio però. Stanno bene dai. Eh niente. Adesso siamo più uno. Solo di un punto. Lo recuperiamo Marco. Lo recuperiamo prima. Insomma ci recuperiamo in fretta. Anche perché fosse fatto abbandono prima. E' una città scrum. C'è gioca e abbandona solo su palaltro. Eh sì. Prima ne continua né niente. Fa da solo. Questa volta mi devo impegnare ragazzi. Sì sembrano leggermente meglio. Ho distratto dal caldo e dalla finestra. Fanno più meglio. Perché Hangout e fa cagare al cacchio. Fa veramente espletare. È vero. Non c'è niente più i microfoni. Vedi? Non c'è più il simbolino del microfono di merda. E poi non laggano almeno. E non laggano. Esatto. Quindi sono molto contento di questa cosa. Tu Marco che ne pensi? Oh lì Marco. Io preferisco darvi due mesi. Grazie mille per aver guardato. Quanto lui mi sfida perché è stupidino quindi. Che di sfidar dietro? For me è... Ah. No. Che così direttamente va bene. Grazie stai inb. Marco. Ora riprendile. Tutto tanto di guadagnato. Abbiamo le nostre tattiche. Ah 2 più 2 quello lì. Ma che culo c'hai? Il piegliezza. È schifo. Sempre bullo il piegliezza. Non è che... Tante che più 2 eravate vuoi ad averli tipo... No. Sei culo. Va bene. Qualsiasi. Va bene tieni. Ecco qua. Va bene. Perfetto. Tieni questo Marco. Tranquillo. Tanto ce ne ha 7. Non lo fare imbecille. C'ha 2 più 2. Ma tu c'hai più carte. Io non ho di meno. Devi prendere le tue. Ho capito. Ho capito. Ma scusa. Ma scusa. Ma cretino. Ho girato. Perché c'hai il cappello che non ti fa circolare il sangue. Ma io non so serio. Se io ho meno carte e tu ne hai di più. Prendile tu. Che ce n'ho meno io almeno. Ma no. Ma che devo prendere 6 io. Scusami. Ma perché io sto vincendo almeno. Dobbiamo giocare sempre. Ma chi vince cosa? Tu c'hai 92 carte. Chi se ne frega. Se ne prendi altre 92. Guarda. Facciamo così. Guarda. Ma sfidalo. Era giusto era. Il discorso. Io ti sfido Morelli. Ma tanto è tutta una tattica questa. Jezzar. Cosa pensi? Per la mia funzionata. Tu non so che funziona da molto. Dormiretta. Che funziona. Vabbè. Non ho ancora il record di voi. Un record. Era 21-22. Tu sei 18 Morelli. Vuoi arrivare al record. Ma non c'è il record su. Ti ha pagato. Pescherai te Morelli. Vai. Vai. Eh. Tanto ho tutti i colori Morelli. Quindi puoi fare questi colori. Esatto. Me ne sbatto. Guarda. Chi è? Nooo dai. È stata tattica. È quello che ho dato i più 4 a cazzo. Che cacca. Vai. Dai. Ho trovato noi due poi. Vai. Vai. Hai bloccato il posto. Adesso vedrai che carta eh. Eh. Allora con calma adesso eh. Mi raccomando. Avete visto che piano geniale. Ma che piano geniale. La sfida funziona che tu il più 4 lo puoi buttare solo se non hai nient'altro da buttare. Esatto. Però se anche dimmi la Morelli si ha bisogno di dire le patofarole. Guarda. Guarda. Io ho sentito la gara un pochino. Si invece. Ma tu sei un pazzo. Se tu butti più 4. No no. Io non l'ho sentito la gara. Non ne capite. Stronzi. Come è quello? Molto deficienti? Come cazzo? Dai dai. La moda. Della. Ficaggine. Eeeeee. Tieni. Cacchio. Tieni. Cacchio. Tieni. Molto bene. Molto bene. Marco non ti preoccupare. Marco non ti preoccupare. Scusami. Mi preoccupo sì. Venti. Venti. Marco non ti preoccupare. Marco non ti preoccupare. Venti. 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 Ah. Marco tranquillissimo. Non ti preoccupare Marco. No no sono tranquillo. Marco non ti preoccupare. Non grattarmi la testa ma col cappello non posso. Non mettere niente dopo. Non mettere niente. Stai buono. Fagli passare il tempo. E niente. Questo. Questo si può mettere Marco. Ma si va benissimo. Facciamo un testo. Class. 4 mesi. A volte ritornano scusate abitarlo ma. Alla fine l'importante è arrivare certo. Cos'è mai dovuto. Mi raccomando eh. No io non mi preoccupo. Ah. 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 Scusa Marco. Eh voglio vedergli le carte io si. Una verde e una blu. Il più due è verde e l'altra più non l'ho vista. Dai allora Marco. Facciamo così. Un 4 o un 5? Un 4. È troppo tardi. Entra è giusto. Ma dai. Marco. Cosa mi dai il numero adesso? Eh infermi che sceglie. Ma dai. Ti faccio scegliere. Il stronzo guarda. Dai. Grazie. Ti metto un 5. Grazie grazie. Molto gentile. Vai Marco. Non posso fare molto. Non posso fare molto. Facciamo così. Una gliela facciamo togliere almeno. Perché? Almeno sappiamo che c'era una vera adesso. Eh ma anche l'altra la sapete. Si ma non potevo fare molto. Quindi. Andavamo avanti. Ah. Eh si. Ah ah. Marco. Marco. Guarda la solita catpesca. Marco. Eh niente. Comunque non cambia il risultato. Sempre nella stessa maniera. Abbiamo. Sempre con la nera. Sempre con la nera. Abbiamo fatto qua. Abbiamo fatto qua. Siamo proprio i campioni del combo qua. Allora bravi. Vincete sempre voi. Allora. Dai. Non so. Dai. Allora. Facciamo sempre voi. Questo recuperamolo. CULONI. CULONI. Tanto. Se no piangono. Eh cappotto si se. Senti. Devo passare sotto al. Sì. Sotto al cazzo. Ooooo. Senti che belle le carte che vanno. reccome le carte fanno. Se lo metti il mouse. Nel posto giusto. Le carte fanno. Chiangolo. Adesso ti sfido. Sfidamiuyu". Vai, Marco. Non c'è cascato, Marco. Questa volta non c'è cascato. Poi si cascherà la prossima volta Marco quella non la fare La potrei mettere io Vai tranquillo Allora adesso faccio una cosa Non lo fare Non lo fare No Non ha senso Cosa metti Cosa metti Poi ho detto vecchio nome Vole Cristina Vole il vecchio nome io Non me lo ricordo neanche più Nicocci Com'è che era quello vecchio Era Cristina Cacca Cristina Grazie Nicocci Dai saluto ti posto Vai Marco Oh dovevo farlo subito E' sacrosanta questa cosa Marco Allora adesso Succederà questo Tu prenderai delle carte Esatto E le darai alla professione E' tutta una tattica Non ti preoccupare Sì che è la tattica E' l'unica tattica Che può esserci Mostra c'è tattica Non ho capito Per pescare No la mostrerò io la tattica Vai Marco No l'ha fatto Qua tanto per lo stesso Sì Sì Non vinciamo per la fortuna Noi Chi è che fa lo show qui intanto Non vinciamo per la parte E' di ciò che c'è il punto di domanda Puoi vedere E' di ciò che c'è il punto di domanda E' di ciò che c'è il punto di domanda Ti fa vedere Ah ok Io faccio così E' niente Particolare Particolare E' devo fare la prima prova Sai di Ezra E' lo so E' quindi come facciamo Tutto subito Aspetta che non mi ricordo Quello che faceva E' quello Quello E' No vabbè adesso non ti serve Scusa Eh ma dopo non posso No non ti serve Ti serve Eh ma appena sbaglio carta Scusa questo stupido Eh infatti Guarda quella Guarda la testa E' perché Pensavo mettesse la mia No no devi selezionarlo E' Vale scusate Anche i suggerimenti hanno questi Aspetta Vai Vai Sai cosa fare Sai cosa fare Devi fare così E così Vabbè No di realtà era meglio l'altro Era contrario Eh sì Perché poi io nemmengo fregata Troppo niente No vabbè Vabbè Sì io solo No guarda Solo con i suggerimenti Ho fatto così comunque io Adesso io mi spargo le No vabbè Andano subito la carotide Non posso fare niente Guarda a te Che schifo Guarda Infatti è un dubbio Tu potrei sbagliato Però Sto volendo alla webcam di Moro Che mi dà un problema Che mi subito Ah la due carte verdi Il 7 e l'8 E sicuro Il 7 e l'8 Il 7 e l'8 è quello Di ficare piccone Eh ma c'è così Ma lei gioca un pochino E te che mi ha fastidio Non giochi Moro Fagli vedere Chi siamo noi per davvero Eh per davvero Ma sì Ti Eh Eh insomma Marco Tanto lui mi caccia un'altra venta Fammi vedere il che cacciaio Marco E niente Così guarda Meglio così Resta fedele Moro Speravo non c'è in finale Ma sì Facciamogli fare uno a lui No Devi cambiare Adesso Marco Non posso Moro Eh cosa faccio Devi cambiare tu Devi cambiare tu Cambia tu Morelli Ce n'hai 60 Cambia tu Cambia tu Pesca 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 Morelli Pesca Io direi che è assurda Ok è molto combattore Io direi come pareggio e finirei qua comunque secondo me No ma noi siamo in vantaggio fortunatamente eh mi pare Oh no Eh sì sì Ehi Google quanti gradi Eh lagga Sono 23 gradi Si sta una faccia Ma non ci sono 3 gradi che cacchio Ma sono 200 almeno 23? Così poco Sì E l'altro giorno erano 18 gradi Erano Madonna Morelli Beh è piccolo sto per il cappottone Effettivamente fa freddo Sotto il biardino infatti Sotto sotto Tieni Marco Grazie Marco Marco Adesso mi rompo i denti Vai rompici denti allora Dai Mi paghi tanto Che te riparo Sono un poverato E allora andrai via il culo Eh tanto lo faccio già Vai Chi è? Ah 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 Ha il potere del change perché ci credo solo io ragazzi Infatti Marco li stiamo solo facendo vincere Ora deve essere più fiducioso Ora deve essere più fiducioso Sì insomma E stasera non lo vedo fiducioso Lo vedo abbattuto già Marco Marco Non è vero che non sei capace Ma io prendo le carte Come un carrapace E questo è il potere del canje Che bello avvocato Marco Dai mi piace Io sto sudando le peggio situazioni liquide Ma roba Io ti dia google quanti gradi fanno No dai Ti 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 Perché no dai Ma due gialle Ne ha due gialle Ma due gialle ma questo è il sforzo Guarda che ti sfido a fare Non ha capito come funziona Era ovvio che aveva due gialle No che non era ovvio Perché non è ovvio che avevi due Perché non è ovvio Ne è ovvio Bruno Però la cambio Ma che fastidioso Ora lì mi ha cambiato in mente Ah che palle Sgheragna 21 mesi Grazie mille 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 Marco abbiamo vinto Ma è fatti Marco Giustamente ci sta Vedi chi di carpa perisce Di carpa perisce Faretta Aspetta io posso ancora Pensare Cazzo Marco Adesso guarda mi ha cambiato il change Sì ma che ne ho parole Bravi bravi Che cazzo Ma io Ma ho sbagliato Ho potuto farti vincere Ti fatti vincere no? Eh sì perché mettevo il colore giusto Vabbè Vabbè Io non ho più le carione Facciamo un po' di sfida Marco Guarda 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 io Grazie Vorrei di chiedere Un po' di carta in mano Effettivamente Eh E che Anche tu Anche tu hai detto Un po' di carta in mano Vabbè Sì è marazzante Io non voglio più parlare No ma basta Non parliamo più Ma non parliamo mai Adesso parlano Gianni e Finocchio Beh Chi è? Io sono Gianni Perché si è offeso Pure il Finocchio A me piace il Finocchio Lo faccio io Sono il Finocchio Un Fincimonio Verde 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 Perchè Perchè A volte ho detto Il verde Non sbagliato Mi ha detto Capito Vabbè Però mi fiavo Itai dietro Comunque Ho sbagliato No ho fatto Cacco Di mal Eh Vabbè le vostre mamme è una cosa positiva perché la tua mamma ti vuole bene 4 parco gioca male per cortesia tanto fino adesso che stiano giocando bene ha fatto le cose incredibili che la gente ha fatto la ola l'ho vista in chat è vero è vero c'era la ola un po in chat voi fate una ola in chat per cortesia come si fa la ola in chat non sapevo fare l'ora tocca al massimo ma che cazzo c'entra con la ola? fa la ola, tira su la mano ma fai il dito così e... ma la dita, la dita è l'offeso scusa faccio vedere io stai caldo ma la ola così con dei boticons ah ok c'è il nostro infatti vabbè è vero c'è il nostro ma quello lì non è la ola è il esultante io voglio la ola quindi oh e... adesso mi fai vedere una ola decente ma c'è l'arbitro vedi che c'è l'arbitro vabbè che c'è l'arbitro vabbè che c'è l'arbitro neanche io Marco dai andiamo a giocare la viscola andiamo a giocare la The Witcher dai la matriciare è bello giocare l'arbitro in questo momento ma che capimenti in questo momento voglio farmi vedere non mi inquadrate eh Marco non puoi coprire mi spiace ma che schifo ma poi hai le cover quelle di merda di plastica trasparente che diventano gialle no hai silicone ma hai sempre fatta così eh sì ma che schifo ma non è che già eh sì è di questo po' diventano gialle di merda quelle cover lì quelle trasparenti si diventa tutto schifo no è sempre fatta così dai ma lo scegli quello giusto a parte che ho anche il telefono oro quindi pure sarà trasparente si vede appunque già no non sfido mi fido di te a Willy Wonk e che posso vincere stavolta stai molto in vantaggio stai zitto stai grazie Gid grazie Espri di cosa? tra l'altro serviscono la mano la webcam fa un calore ahhh la webcam sarà il monitor no 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 è caldissimo la webcam stanno molto bene questa partita io mi sto molto divertendo vabbè c'è anche lo schermo tu ne pensi lo schermo in realtà è meno caldo della webcam incredibile io si dite che bregate sui mano poi la mia ehhh mi è fredda la webcam che cazzo vuolta c'è la stessa ehhh Borelli tocca a te comunque ma non aveva il blu ma scusa ma che cazzo dava il blu ah ok Marco cosa ti metti in questo momento vai Marco Marco cosa pensi di mettere in questo momento niente mi faccio vincere vabbè io gli ziamo ti ho prescare intanto vabbè va bene beh è anche bella partita questa ti schermo e basta tieni ah l'ha messo uno zero Bruno Marco tu cosa mi metti? un rosso? va bene niente c'hanno un culo che guarda ma che ci vuoi fare? ci vuoi fare un po' di culo bisogna averlo nella vita da voi che parte non l'ha detto non lo ha detto e non funzionerà un cazzo scusami no ho premuto come al solito prima devi premere poi metterla cazzo è prima ma guarda che un sacco di volte in live l'hanno visto che non funziona eh sii ei Sì, abbiamo veramente tutte le sfighe noi oggi ed è un change. delle sfighe aver scritto un change che t'ha da un rischio è un pò troppo rischio però... beh più bene e me che c***o me ne frega tanto non ti avete vinto tanto io volevo vincere guarda adesso c'è un più 7 ha vinto guarda i team maliali i team maliali i team maliali 8 a 7 l'abbiamo fatto ad arrivare in vantaggio finalmente 92 a 91 come ci si sente a essere delle merde adesso lo bagno si ora aspetta ma che va di si ora perché lo bagno si ora non bannarlo per quanto poi ma li sbannano e non posso fare il purge sbannatelo mi sento stretto in questi vestiti non ha fatto niente dopo magari non faccia niente con lo stroga dopo ti strappi i vestiti ora li giochi un pochino a tempo sei zitto mi tocca adesso chi ti tocca e tu chi ti tocca schifoso ma dai è troppo difficile di quelli del bastardo pesca un'altra carta ma non pesco un cazzo ma ce l'hai scusa perché hai pescato un cazzo perché ti fai perché ci sono 0 8 5 3 3 3 il numero di esperti 4 5 8 hanno messo un blu il numero di esperti ma che ci frega noi 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 si è imballato Marco grazie mille a Bracke Bracke grazie mille per la sabbra Bracke cch grazie mille scusa attenzione qua ma è tranquillo Marco ah Marco è il pesco tranquillo è la fortuna che non gira ma tutti in blu tutte le carte in blu in mezzo sono comunque guarda che bello prego Marco prego ah che gentilezza questa Marco Bruno Marco che palle ma perché li rompi sempre i coglioni Morelli ma tu mi rompi i coglioni non è vero non hai le prove di questa tua fermazione Marco prima lì e poi Marco prima bravo bravo io non ci credo questi recuperano guarda noi questi hanno vinto ma chi è vinto di che il più 6 che non esiste speriamo dai ce l'avrete comunque ma no ma no ma scattare di mentalo cos'è questo cos'era fammi vedere che cacchio di carta con lo stronzo verde come le tegole come le tegole le tegole verde sono un po' particolari comunque ah vada che culo dai tiri 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 pesco un'altra carta tiri tiri e vabbè lo potrei fare tanto lo faccio dai fallo brutto scemo ma noi che ci furiamo divertiamoci noi abbiamo tutti due carte quindi a noi che ci interessa nessuno erano pare ma non è che sono così rilassato sono veramente rilassato sono tranquillo sono tranquillo stacquino sono Pipino il breve vabbè vabbè ho Pipino il cacchio uh ho fallo ma guarda che buco del culo guarda che buco di culo guarda che buco di culo abbiamo guarda teo è incredibile vittoria qua tutto tutto l'oro c'è ah 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 ti 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 beh questa cosa qui ecco che si fa qua se non si vince oggi non si vince oggi qua Marco è sparito anche voi è sparito e niente vabbè me ne volo anch'io dai è così proprio dono in canottiera prega niente ah dono in canottiera guarda e già tanto se non sono nudo bello tranquillo con i miei telazzi Marco non puoi farlo prega niente eh sprit prega niente oh prega niente guarda che bello oh bello bello due ruti Marco ma sei nudo non puoi si blocca le case ma si che ce lo bloccassero tanto ormai siamo alla rovina qua è vero è vero ormai domani chiudiamo infatti che ce ne farei ma si belli tranquilli sciallati ah perdete ah così è sotto la sedia lo so io di lato io non posso sudare per avere degli imbroglioni anche qua uno fa il sacrificio di sudare per avere gli imbroglioni qua Marco devi stare più tranquillo però perché la vita è fatta così la vita è rosa io ti sfido mi sfidi e cosa ci vuoi fare Marco la sfida va fatta così lo conosco gli ezzar ti teri 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 Ancora spellando, quante pelle perdi, scusa E' che la spellò tutti i giorni Quella volta non l'ho mai più toccata Devi truccarla, devi strapparti da pelle Che schifo, quelle porcherie le fai tu Tu insieme poi Quante probabilmente così hai un mark fatto di pelle Ah, mi dai un altro Ora è invisibile Sì, sì, ora non si vuole potere di invisibilità Usala con criterio E non l'ha usata con criterio Niente, non è buono giocare Morelli comunque C'era bisogno Grazie per vedere carte Però, tra due secondi E ci vuoi fare Marco Ma che muscolo c'ho Che muscolo c'hai? E' quelli del corpo Che li ho più muscoli, li ho sudati E' vero, è vero Anche io Marco Che colore pazzo Testiamo? E vabbè, tanto vai La rischiamo, la rischiamo Vediamo cosa fa Morelli E ci vuoi fare Ma ho avuto un po' di culo stavolta Ma che c***o Non è l'uno E' Team Porcelli E' Team Zuinni Peccato di culo Morelli Ma tu hai scatto la guerra Allora non si può perdere sempre così E' infatti, dai E' Cos'è successo? Niente, siamo Parimaur ho lasciato giocare la mia sedia è bellissimo la sedia è bellissimo è stato un compagno e mi sono rotto i coglioni mi spiace è il giusto mettici un po' di attack ma che male poi stacchi tutti i peli questa immagine è orribile Morelli tu dai aspetti perché insulti? è il cerchio della vita ma il cerchio della vita ho capito e io voglio scorreggiare su questo cerchio è un insulto quello va benissimo infatti eeeh e ci vuoi fare debino davantuno debino grazie mille gentilissimo grazie mille al sub col prime insottologo sai la matematica vai a studiare scusa ma io non lo so veramente si improvvisa si improvvisa scienziata e mao che dona intanto e dice dei tutti belli ma esprito vuori più perché si fa chiaramente il mentito grazie grazie mao grazie mille grazie mao molto gentile molto molto ciao uccidori molto molto buona pizzo buonasera avviso un microdonato sul microdonato è tutte le domande che mi servono perché mi fate sempre pescare marco perché pescare è il cerchio della vita mi fa male la testa con tutti quei pari mi fa male la testa a me se otto è pari è apposto se otto è dispari ma eh che ci vuoi marco è che di spari no devi smettere sempre scaccate però qua ce n'ho troppe faccio quello che voglio va bene va bene cosa mi dai metto un 6 cosa mi dai 2 8 come il buco del è proprio gli 8 il 2 c'è due buchi scusami non mi è tappata c'è un suolco tipo change non è vero non c'è change change ma quella change ha fatto il dolore ahhh fortuna che sull'idee eh e vai marco yezar moro apri le buste della verità moro e vai si può volete rischiavo e devi tadrona 3 è vero facciamo allora ahhh vai marco fammi vedere che merda c'ha quello stronzo ahhh ahhh un bel 2 rosso ha vinto rosso come che cosa moro come che cosa rosso il pripuccio quando si irrita è vero 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 ho vittoria è vero è vero è vero è vero ecco perché ci vuoi fare avete fatte così si ma ora si guarda il pene cosa succede di cosa è stato controllo il pene marco è posto non è rosso prendi il pripuzio vedi c'è rosso ah non è rosso è troppo un attimino non è rosso no io mi voglio diventare marco ma il tuo mazzo di carte è il tuo cazzo di marte non aveva ancora sento gli occhi non è rosso non lo fare marco è rosso non risponde niente ho detto sì e non si sento ho sentito qualche cazzo di carte età ti piace il blu marco lo tocca a me che imbarazzo vero come espri oh l'hai sentito bene mio caro avversario questi insulti gratuiti guarda io ho fatto gli spiriti l'altro che come va tocca a te marco ma ma cacca d'ora cacca uuuu che vuoi che paura ho sfido che paura ti sfido marco ti sfido marco ma che ti sfido cosa sa c'è un altro più 4 comunque che cacca marco nooo io sono tristemente sono tristemente sono tristemente insieme morelli ok e che caldo anche così marco allora toguiti tutta la pelle che cazzo ma non serviva non mi consumava la carta prima comunque non lo ricordo eh ti ricordo l'altro non lo faccio la carta c'è ha due gialle c'è ok ok no non l'hai detto ma che si riempersi figurati se perdete ma guarda avete dei buchi di culi arrivo io prima è vero è vero è vero è vero si la faccio io la faccio così metto questo ma che ci fregono ma che ci fregono ma che ha sbagliato ha sbagliato ha sbagliato perchè tanto ti sfidava è vero non è vero mi ha capito sta cosa ho capito è vero gli erori capitano nella vita non è che poi facci molto la vita è fatta così c'è chi scende e chi sale il sale fa male però quindi cambia giro cambia giro Giorno Gianotti! Ti strizzo tutti col Giorno! Giorno Gianotti! Siamo comunque in vantaggio! Possiamo chiudere la live! Ti maliali! No, non costi in muti, manco! Nico, ci cacchè! Grazie mille! Vabbè, comunque, siamo ancora in vantaggio! Ma come cazzo conti, Seor? Ma giusto! Ma che è giusto, abbiamo vinto noi! Appunto! Eh, appunto! Eravamo a tre noi! Eravamo a cinque, eravamo noi! E voi eravate a sei! No, eravate in sei a sei! Eh, sei a sei! Ti dico io un sei! In fraccia! Ma te lo spacco nella testa, lo zaino! Sto vivendo di continuo! Morelli, perché non mi fai giocare? Perché mi stai sui coglioni! Eh, mi sposto, aspetta un attimo! Medio così! Grazie, molto gentile! Così sono un po' più alleggerito, effettivamente! Eh, ti puoi spostare un altro po', che mi stai ancora un po' sui coglioni! Eh, sull'altro, ero sui coglioni! A posto, a posto! Adesso sei nel mezzo, sei proprio sul fallo! Eh no, sono di lato da adesso, ho fatto due saltelli! E che c'ho le palle solo da una parte! Hai tre coglioni, ma è possibile! Sono secche, fa caldo! Non sono mica di tre palle io! Siamo state davvero! Ti asiste blazzamante! P-P-P-P-P-E-P-S, ti asiste! Qua guarda, si si! считventunale! shoulder! Mars Richtung! On bel colore! Pour omabe il expenditure! È un bellissimo colore! La giornata se presenta le parte e col Pethal hic thermal theist чтоб! Marco vai! Marco va sempre stato così giancio di cosa Tatto quando siamo con il live Come noi per la mattina per esempio live quando siamo con il live Tatto Vai vai Marco questa tattica non c'è Aspetteranno eh Come i pascià Ti ricordo Ti ricordo Ma basta che ti sbrighi Morelli fammelo fare Morelli fammelo fare Fallo Mamma mia Marco Ma perché Falleggiano tutti a 4 No c'è Tutti a 4 Vabbè mi ha benissimo Quella lì cosa faccio Era quella Ah ok Va bene Molto bene Chi vuole dire carte a moro Rosso rosso blu Naso all'insuco Grazie grazie Valordi 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 Bastardi Infami Infami Bastardi Preghi fami Peppemi Pezzi Merda Ma basta Ma basta Infami Del cazzo Io mi sono Appeso Allora Beccati questo Ah Me lo so Tutto beccato Ah Quello è un 9 Quello è un 3 Marco Tu cosa metti Marco Tranquillizzati Cosa metti di colore Mettine uno Bello sgargiante Io spero Che sia una scelta affidabile Morelli Ma probabilmente Con la nostra fortuna No Sarà una scelta Sbagliata Come al solito Ah Questo cosa faceva Perché loro Sono culoni Se no Non si chiamerebbero così Si chiamerebbero Farfall Marcia Merebbero Bastardi Eh Non posso Fa niente Dietro Che ci vuoi fare Eh Niente Vediamo Cosa fanno Eeeh 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 Che ci vuoi fare Morendi La vita è fatta così Quello è un 6 È un 9 È un 6 Marco Prego Hai un più 2 Mmm Che buone Le carte Mammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammamm dai corno e balliamo insieme al carico da barbara più forte ma comunque barbara sicuramente più forte si è uscito quindi come funziona è niente sono troppo forti e niente usciamo e diamo la linea che vediamo ai morti la partita io dai fatevi sotto perdi adesso vinco io qua dai fatevi sotto bot dai bot fatevi solo e morelli fatti che ci vuoi fare andate andate dai gatto dai che oggi fa mi pare mi pare di aver capito quindi si e noi ci vediamo domani mattina non riesco a fare ok ci vediamo domani mattina e poi mai più domani mattina è già partito è partito ride vediamo un pochino e sta facendo il countdown cosa scriviamo giusto scrivete 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 non lo so scrivete marco fa schifo scrivete marco fa schifo marco fa schifo va benissimo dai grazie a tutti